Selvaggia Lucarelli in un suo articolo ha scritto a proposito di questo matrimonio polvere di stelle e polvere da sparo. Sì, è chiaro che non si può giocare su questa ambiguità. Non si può raccontare con il taglio e il divertimento dell'intrattenimento qualcosa che è molto oltre una carrozza, un cavallo, un giocoliere e qualche colomba che vola. Tra l'altro, scusa Massimo, al di là del fastidioso corporativismo del sindacato e del fatto che non si possa, come dire, cercare un appiglio legale quando è chiaramente una questione di inopportunità andare a suonare al matrimonio di Toni Colombo e di Tina Rispoli, non mi sembra di doverci tornare sopra. Un'altra polemica che mi ha dato molto fastidio, e scusa se lo dico, non ci siamo messi d'accordo, non sai neanche quello che sto per dire, è quella relativa al fatto che tu parli di questa vicenda con particolare insistenza perché ci sarebbero dei sottotesti, delle rivalità, delle scaramucce tra conduttori della serie e quando il saggio indica la luna c'è chi indica il dito. Io voglio dire, è evidente che di questa vicenda bisogna occuparsi, chi se ne frega di chi legge dei sottotesti, delle ragioni altre che gli altri non vedono e anzi mi stupisce francamente che ne parli con questa foga e con questa insistenza solo tu, perché ne dovrebbero parlare tutti in mente per la solita regola, scusami, odiosa e insopportabile che io detesto, del cane non morde cane in questo ambiente, tutti tacciono. E quindi la narrazione di questa vicenda è delegata televisivamente più o meno solo a te e giornalisticamente più o meno solo a fanpage. E questo lo trovo davvero incredibile. No, ti ringrazio perché io proprio per quello ho voluto avere delle parole di riguardo in confronto di Maurizio Costanzo, perché è l'unico che ha scritto e ha capito il senso di questa nostra battaglia. L'altra sera, venerdì, ho avuto uno scambio di sms con un direttore di una rivista importante che invece la pensa probabilmente diversamente, ma nella libertà ci sta tutto. Ma, ripeto, far finta di non capire che portare in televisione questo tipo di personaggi vuol dire accreditare un certo tipo di ambiguità sul territorio, di forme di criminalità sul territorio con tutto quello che vuol dire questo, beh, mi sembra molto particolare. E che non lo leggano certi colleghi, che non lo scrivano persone che fendientemente sono abituate a stare solo nei salotti buoni e non si sporcano le mani in quelle realtà, beh, mi fa male, mi fa dolore. Perché in questi casi sono frignacce gli scontri tra due conduttori. Non c'entrano niente i due conduttori. Stiamo parlando di qualcosa che va oltre i conduttori. E che questo tipo di televisione, fatta così, è un errore.